Ciao Fabien, ultimamente le cose non stanno andando molto bene, non riesco a trovare l'ispirazione giusta per i miei disegni. Ho perso la fiducia in me stessa e non credo di essere all'altezza del mio sogno. Ora ti saluto, il mio capo mi chiama. Devo andare. Ciao Fabien, continuo a sentirmi giù. Anche sul lavoro sono più imbranata e distratta del solito, il che è tutto dire. Credo che anche il mio capo l'abbia notato. Oggi sul lavoro ho fatto un disastro. Ciao Fabien, sembra che finalmente le cose abbiano ripreso a funzionare. Sono finalmente riuscita a trovare il coraggio di ordinare una pizza da sporto, superando l'imbarazzo. Ho anche deciso di mettermi gli stivali viola che abbiamo comprato insieme e che mi sono sempre vergognata di indossare. Strano ma vero, sono anche riuscita a prendere al volo un piatto del bar che avevo fatto cadere di nuovo. Mi sento più decisa, più fiduciosa. Sarà merito della chiave che ho trovato? Sai che io non credo a queste cose, però... Ciao Fabien, ho preso la mia decisione. Andrò a Parigi. Sono decisa, motivata e positiva. La mia arte, dopo tanto tempo, è tornata a piacermi. Forse ho trovato la chiave per comprendere il mio mondo. E tu sai di cosa sto parlando. Sì da fuori la mia decisione. Forse ho trovato la mia a procuga. Forse ho trovato per comprendere il mio mondo. E tu sai di cosa sto parlando. E tu sai di cosa stava.